La diciannovesima edizione del Trofeo Giugni, Michele Rigamonti, Pietro Libera, Luca, ciao, 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 i Franz, i Fila che non si mette d'accordo. Ciao, pronti? Chi lo trova, me lo porti qua. Ecco il Marco De Gaspari. Questo qui. un parere su questa giornata fortunata per via dal punto di vista meteo cosa dici ma oggi finalmente non non è come ieri dove veramente con la pioggia sarebbe stato un problema sarà un percorso un po fangoso però c'era augusto castellini che ha detto che ti vuole star davanti quello che devo fare va bene anche le rase che non preoccuparti facciamo vincere l'alice perché così almeno è contenta per i matrimoni è un regalo di nozze per quanto riguarda naturalmente tutti gli atleti master e nel percorso ridotto di tre chilometri e mezzo per quanto riguarda i settori giovanili abbiamo naturalmente un parterre di grande livello visto che siamo onorati di avere con noi ancora una volta il nostro marco de gasperi al quale dedico un grande applauso e naturalmente la nostra ora nazionale alice gaggi questo qui dovrebbe essere il tuo regalo di nozze quello che ti fai per il tuo matrimonio vero la vittoria della femminile e vittoria vedremo ma diciamo che la vittoria ci può stare vediamo l'ha detto anche marco de gasperi no no bravi dai 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 forza dai ragazzi dai pop 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 dai marco marco sei forte vai di qua di qua vai bravo dai bravo dai montagne divertenti dai francesco 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 bravo vai bravo vai bravo 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 vai forte bravissimo 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 dai dai avversi perché non e allora francesco è riuscito a fare una quarta posizione il pietro lie vera bravo ecco thu sa reference a primo tratto, però tutto sommato buono. Qui c'è con noi l'Elisa De Esco che purtroppo questa domenica non ha potuto correre perché è in compagnia e probabilmente... Hai avuto problemi sul percorso scivoloso? Tutto bene? Tutto bene. Perché Marco è caduto e si è fatto anche male. Marco De Gasperi è caduto, è scivolato e guarda in che condizioni è. E perché va troppo forte, sì. L'Elisa e suo papà si fanno i complimenti. Ho detto che ti facevi il regalo di nozze prima di partire, te lo sei fatta, sei contenta? Anche se ero davanti in cima alla salita purtroppo, la discesa non gioca a mio favore, ma comunque va benissimo così. Ecco figlio d'arte, è arrivato figlio d'arte, Fabio, quanto ti è piaciuto? Moltissimo, bello, vario. Tantissima gente. Tanta gente. Uno spettacolo. Uno spettacolo e un bellissimo sole. Certo. Com'è andata? Mi hai fregato. E' qua sull'ultimo. Non ce la facevi più? E' finita Lucia, appena qua davanti a te. Dov'è? E' appena arrivata. Pochi secondi fa. Non lo so, quanto sei arrivato. E lo so, Stefano, perché ci hai messo un momentino di più. Noi sono partiti un po' più. Noi sono passati alla mezza, in un'ora e l'undici. Però calcola che c'è già dentro 300 metri di livello. Quindi lo sono passato in un'ora e quattordici. E poi la seconda mezza, dal venticinquesimo, inizia stessalità, tornato che va bene. E ho lento quando l'ho mandato per te sei schifrato. Grazie.